...un peso alla Fiorentina, quindi alla fine va bene a tutti. Se vai, hai voglia di ralza verso la Fiorentina, per mostrare che i passi sono sbagliati, perché lei parte della letra, c'è stato consegnato insomma anche il sorriso della bandiera, dell'attaccamento alla maglia, tutto sentiti molto duro, però questo non è passato. Sì, no, è inutile penso alla fine prendersi in giro con queste storie di attaccamento alla maglia, come a loro potuto dire, in passato. Penso di essere la prova che alla fine non basta. Non ho niente da dimostrare alla Fiorentina, ho tutto da dimostrare a Genoa a calcio, quello è poco ma sicuro, perché è la mia nuova squadra. Voglio fargli capire che, insomma, la voglia è tanta e voglio, come è stato in passato, fino a poco fa, dimostrare che sono ancora uno, se non più forte, portiere di campionato italiano.